Presidente, ma è ancora un giallo il voto del 3 marzo per il rinnovo del Consiglio Provinciale e elezione del Presidente? Più che giallo diciamo che siamo in attesa della risposta del Ministero al nostro quesito perché come tutti ormai sanno non è un mistero. Abbiamo qui chiesto agli affari regionali come comportarci visto che il Mille Proroghe ha al suo interno un emendamento che indicherebbe la provincia di Crotone di far slizzare il voto dopo le amministrative perché noi abbiamo sollevato non con la vicinanza delle elezioni ma già a dicembre abbiamo inserito all'interno di questo quesito che abbiamo inviato alla Prefettura, al Ministero dell'Interno e al Ministero degli Affari Regionali chiedendo come facevamo a votare mancando il 50% della popolazione al voto e avendo 5 comuni commissariati. Stiamo in attesa della risposta a questo quesito e nel frattempo seguiamo anche gli sviluppi dell'emendamento nel Mille Proroghe. Abbiamo visto oggi che tra mercoledì e giovedì questo emendamento verrà approvato definitivamente al Senato e quindi sono giorni in cui siamo chiamati a decidere il rinvio. Quindi sarà rinviato, da quello che ho capito, sarà rinviato il voto. Lei intanto però è candidato anche a sindaco di Ciro Marina. Questa candidatura era nei suoi progetti? La candidatura a sindaco di Ciro Marina sì, non è un mistero e l'abbiamo deciso anche da qualche mese. Per quanto riguarda la provincia invece è un fatto nuovo e non è tra l'altro solo un problema di Crotone perché magari chi ascolta pensa che solo Crotone ha questo problema. no, è un vizio di forma di una legge sbagliata dall'inizio che non ha calcolato qualora venissero meno alcuni consigli comunali il comportamento e che il Mille Proroghe dovrebbe sanare proprio questa posizione. Il mio è un giudizio personale, non da persone interessate perché non sono una persona interessata al dopo, è un giudizio personale cioè come facciamo a mandare al voto una provincia mancando cinque comuni perché commissariate, tra l'altro il comune capoluogo e poi Ciro Marina tutte e due comuni superiori a 15 mila abitanti per un totale di 80 mila abitanti tutte e due, solo questi. Poi c'è Strongoli, Crucoli, Casabona e quindi sarebbe un'elezione che effettivamente vede meno del 50% della provincia coinvolta.